Urbi Emanuelsson che con l'Ajax ha segnato anche diverse punizioni, infatti Emanuelsson va al tiro e segna questa punizione, molto bravo Urbi Emanuelsson che anche lui bagna questo esordio del Milan, la maglia dei lanceli dell'Ajax aveva segnato diversi gol su punizioni, è stato bravo anche in questo caso a passare il pallone sopra la barriera e a battere...